Musica 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 Nunca Musica 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 no no mi sono no Grazie per la visione Grazie mille ragazzi Succede una cosa strana che noi suoniamo delta a 7 anni 7 anni e mezzo a bordo di questo pulmino Se da un lato ormai ci siamo abituati a suonare questa formula Però ci sono sempre delle cose che faccio fatica a decifrare I vostri sguardi ad esempio Mi piacerebbe davvero entrare nelle vostre teste E sapere cosa state pensando